Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. In queste ore correnti atlantiche stanno interessando il nord-ovest d'Italia e pian piano adanno ad espandersi sul resto del settentrione, apportando un peggioramento del tempo. Il centro-sud invece continuerà a verificiare del richiamo caldo anticiclonico, riconfermando cieli soleggiati e temperature quasi estive. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 19 maggio. Al mattino cieli limpidi su tutti i settori. Durante il pomeriggio avanzeranno velature da ovest che andranno a coprire i cieli a partire dalla Basilicata. Man mano la nuvolosità si sposterà verso i settori pugliesi ma senza recare nessun tipo di fenomeno. In serata ritorneranno i cieli sereni ad iniziare dai settori più occidentali. Temperature in aumento, specie nei valori massimi, con punte prossime ai 30 gradi sul tavogliere e materano interno. Ventilazione inizialmente debole e variabile dal pomeriggio si intensificherà dai quadranti meridionali, sui settori ionici e da ponente sul Potentino e Monti Dauni, mari da calmi a poco mossi. Ed ora ecco il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Luca Galluzzi, che immortale al magnifico spettacolo di colori al tramonto dalla bellissima Maratea. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.